Il 106esimo Giro d'Italia partirà dalla costa dei Trabocchi e per l'occasione Cantina Frentana ha illuminato di rosa la Torre Vinaria. Siamo col Vice Presidente Giuseppe Alfino. Non potevamo non mancare a questa iniziativa in quanto il Giro d'Italia sarà un grande evento per la nostra zona e il nostro territorio e Cantina Frentana non poteva fare a meno di fare questa iniziativa perché ci teneremo tanto ed è giusto che Cantina Frentana essendo una realtà del territorio non poteva escludersi da dare contributo a questa manifestazione. Abbiamo voluto fare questa iniziativa in quanto Cantina Frentana ha voluto celebrare questa occasione anche in virtù del nuovo vino che abbiamo presentato al Vinitale che si chiama Viviluna che è un vino rosato ma più che rosato è un vino che è nato nell'ultima vendemmia e che praticamente è un vino molto rosato però molto molto chiaro. E quindi volevamo unire questa manifestazione al nostro vino. E' stato fatto, ne siamo felici, Cantina Frentana è un'identità del territorio e chiaramente doveva partecipare a questo evento, a questa iniziativa. Così va bene? Bene, al giro e alla cantina. C'è un'identità del territorio e a questa iniziativa. C'è un'identità del territorio e a questa iniziativa.